Il fuoco che covava sotto la cenere ha ripreso nuovamente vigore. Tra il presidente del Taranto Massimo Giove e la PS Taras 706 è tornato duro il confronto. Da fredda la guerra è diventata calda, caldissima. Prima le stoccate del massimo dirigente Rosso Blu, poi la risposta del Trust che in un comunicato ha spiegato punto per punto quali siano i pomi della discordia. Sono tre i contesti in cui la presidenza e la PS si muovono, terreni scivolosi su cui si sta impegnando la querelle. Bilancio, logo societario ed eventuale cessione delle quote in possesso. Sul primo punto, approvato lo scorso 25 febbraio, Giove ritiene che dall'altra parte si conoscessero sufficientemente bene le singole voci per aver fatto parte delle precedenti gestioni. Sul secondo invece chiede la cessione del logo, diversamente potrebbe procedere a crearne un altro. Infine sul terzo asserisce che la Taras gli avrebbe prospettato la cessione della sua quota societaria pari al 7%. Sul tema bilancio, la PS risponde in questo modo. L'amministratore unico aveva l'obbligo, dopo il deposito del bilancio, di renderlo disponibile ai soci nei 15 giorni antecedenti l'assemblea. Ciò non è avvenuto, nonostante la formale richiesta del socio. Fornire il bilancio, afferma il Trust. Infatti non è una concessione, ma un obbligo. Per quanto riguarda il logo, l'equivoco deriverebbe dalla contrapposizione dei termini cessione e concessione. Il con non è da poco. Il logo, dunque scelto dai tifosi, è in uso alla Taranto, afferma la PS gratuitamente e ci sembra ridicolo sottolinearlo. Il logo dovrà rimanere questo. Infine sul terzo punto è secca la smentita della PS, che anzi contraattacca. Non è assolutamente vero e non c'è alcuna intenzione di farlo.